Ben ritrovati in studio per questa seconda parte di Free News, come anticipato adesso ci occupiamo di cronaca. La Guardia di Finanza ha sequestrato a Pozzallo ben 5.000 luci natalizie, prive del marchio di sicurezza CE, segnalato alla Camera di Commercio il titolare dell'attività commerciale. 5.000 luci natalizie pronte ad essere messe in commercio sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza a Pozzallo perché prive dei prescritti requisiti per la loro vendita al dettaglio. Questo è l'esito dell'ultima operazione condotta dai militari del nucleo mobile della tenenza di Pozzallo in materia di sicurezza dei prodotti a tutela del marchio CE. Luce e colori pronte a riscaldare e rendere natalizie l'atmosfera nelle abitazioni, peccato che si trattasse di oggetti pericolosi e non conformi alla normativa. Inoltre le istruzioni per l'uso non erano indicate in lingua italiana, requisiti fondamentali che garantiscono sulla qualità e sulla genuinità dei prodotti, soprattutto come nel caso di specie, quando si tratta di materiali elettrici composti anche da piccoli oggetti ingeribili da parte dei più piccoli. Ciò ha portato al sequestro amministrativo di tutta la merce e alla segnalazione alla Camera di Commercio di Ragusa del titolare dell'attività di nazionalità cinese che ora rischia una sanzione pecuniaria fino a 25.000 euro. E a Marina di Ragusa la Polizia Municipale ha posto sotto sequestro un immobile abusivo situato in pieno centro della frazione. Si tratta di un manufatto realizzato in ferro e muratura. Denunciato inoltre il proprietario. Sequestrato un immobile abusivamente costruito in pieno centro a Marina di Ragusa. Nel quadro di una serie di iniziative preordinata al controllo del territorio comunale, il nucleo di polizia edilizia del Comando di Polizia Municipale di Ragusa, in seguito a demirati sovralluoghi, ha sottoposto a sequestro preventivo in una zona centralissima di Marina di Ragusa, situata tra la via Brine e il lungomare Bisani con vista sul porto turistico, un'intera soprelevazione costruita sul preesistente lastrico solare. Si tratta di un manufatto della superficie di circa 85 metri quadri con una struttura portante in profilati in ferro, tamponamenti in murature e copertura a tetto ad unica falda con pannelli coibentati e tegole. Al momento dell'accertamento eseguito dalla Polizia Municipale, i lavori erano ancora in corso di rifinizione. La costruzione è stata realizzata in una zona peraltro sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza del permesso di costruire rilasciato dal comune di Ragusa. Il proprietario del manufatto abusivo è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa per violazione del testo unico edilizio. E torniamo ad occuparci adesso della violenza sessuale e i danni di una bambina di 5 anni di Vittoria. Per lo zio considerato il responsabile è stata prescritta una perizia psichiatrica. Sarà lo specialista psichiatra Giuseppe Sapienza il medico che dovrà accertare le condizioni mentali del 45enne Vittoriesi accusato di avere violentato la nipotina di 5 anni. A deciderlo è stato ieri il GIP di Ragusa Claudio Maggioni durante il terzo incidente probatorio. La vicenda, un vero e proprio scandalo per l'intera provincia, è scoppiata alcuni mesi fa. Secondo le indagini, il Vittoriesi avrebbe abusato della piccola figlia della sorella. Si tratta di una famiglia di ceto basso che risiede in una zona centrale della città. Anche i genitori sono affetti da disturbi mentali e così la piccola trascorreva gran parte del suo tempo a casa della nonna che vive insieme ad una badante. Grazie ad una visita ospedaliera a cui è stata sottoposta la minore è stato possibile accertare il caso e far partire le indagini. Il presunto violentatore è stato ricoverato nelle scorse settimane in un ospedale psichiatrico di Barcellona a Pozzo di Gotto scavando nei suoi precedenti gli investigatori del commissariato di Vittoria hanno trovato un fascicolo aperto nel 1990 relativo ad un'altra presunta violenza questa volta nei confronti di una bambina di 10 anni. Durante il processo l'uomo era stato ritenuto soggetto non pericoloso. In questo caso, lo ricordiamo, il 45enne si è sempre professato innocente il medico presenterà la sua perizia il prossimo 20 marzo. E cambiamo argomento di missione ieri dell'intera Camera Penale di Ragusa adesso c'è un nuovo commissariamento sentiamo. Camera Penale di Ragusa commissariata il provvedimento è scattato dopo le dimissioni dell'intero direttivo o meglio di ciò che restava in carica dopo le dimissioni di Carlo Pietrarossi. A lasciare sono stati dunque il presidente Gianluca Gulino il vice presidente Giuseppe Di Stefano il tesoriere Alessandro Agnello e il segretario Maria Platania. Nei primi mesi del prossimo anno sarà costituito l'organismo provinciale la Camera Penale Iblea è già al lavoro il team di avvocati che dovrà accompagnare questo passaggio all'organismo provinciale e i nuovi commissari spetterà anche il compito di occuparsi della liquidazione della Camera. E adesso ci spostiamo al porto di Pozzallo dove la Capitaneria ha sequestrato un'area dove sorgono uffici di una società alla base presunte irregolarità sulla concessione demaniale. Ma oggi il commissario della provincia regionale di Ragusa Giovanni Scarso chiarisce che da parte della provincia non c'è stata alcuna anomalie. Sentiamo. Non risultano alcune anomalie o dimenticanze da parte della provincia. Il commissario straordinario della provincia di Ragusa Giovanni Scarso con queste parole tenta di mettere la parola fine ad una vicenda che riguarda il porto di Pozzallo. In particolare un paio di settimane fa è stato eseguito un sequestro amministrativo degli uffici della Virtu Ferris da parte della Capitaneria di Porto. Il sequestro segue ad un'indagine dell'estate scorsa su presunte inadempienze sul servizio arrivo partenze da e per Malta. Gli uffici di proprietà della provincia non avrebbero ottenuto tutta la documentazione necessaria per essere operativi. Su una possibile responsabilità di Palazzo di Viale del Fante interviene oggi il commissario che respinge ogni accusa di inadempienzo anomalia. La provincia dichiara scarso sta provvedendo di concerto con le autorità competenti a dare attuazione al piano di sicurezza dell'area portuale di Pozzallo che non prevede all'interno di quest'area uffici della compagnia marittima Virtu Ferris. Dunque, secondo scarso, nessuna anomalia o dimenticanza. E cambiamo decisamente argomento e entriamo in clima natalizio per esempio vivente alla scuola Monserrato di Comiso. Questa mattina i bambini della scuola dell'infanzia sono stati i protagonisti mettendo in scena gli antichi mestieri e naturalmente la natività. Vediamo. Altro presepe vivente alla scuola Monserrato di Comiso protagonista ancora una volta sono stati piccoli alunni di altre sezioni della scuola dell'infanzia rispetto al presepe messo in scena la scorsa settimana. Nel corridoio i bambini hanno fatto rivivere gli antichi mestieri di una volta dal falegname al calzolaio dalle lavandaie ai pastori senza dimenticare le ricamatrici alla taverna. Naturalmente non potevano mancare gli angeli e la grotta con la sacra famiglia. Abbiamo pensato di realizzare questo presepe vivente per far rivivere alle nuove generazioni gli antichi mestieri che ormai sono scomparsi e anche per vivere in maniera insomma unita momenti di fratellanza di unione e rinnovare questo sentimento di pace. Un lavoro durato diverse settimane che ha visto la collaborazione dei bambini degli insegnanti e dei genitori. C'è un lavoro insomma abbastanza complesso per reperire tutti i materiali antichi e grazie ai genitori che ci hanno collaborato e custodi di molti oggetti che avevano sistemato nelle campagne sono andate a rispolverare per darci l'occasione per realizzare appunto e mettere su queste botteghe. E questo era il nostro ultimo servizio vi ricordo che potete seguirci anche sul nostro sito fritvonline1.it vi auguro un buon proseguimento di serata Grazie a tutti per aver guardato